A nessuno è passato inosservato quel quarto d'ora finale della partita contro l'Ancona Matelica, sei stato un grande protagonista in pochi minuti. Grazie mille, grazie mille. Entrare e dare quella carica in più è una cosa bella perché i ragazzi stanno facendo un'ottima partita, mancava quel minimo che si è visto alla fine, quindi è una cosa bella entrare e in più è soddisfatto per quei 15 minuti che mi dice lei, di dare quella carica in più. Qualche mese fa tu questo campionato a Como l'hai vinto, che consigli ti senti di dare, che gruppo hai trovato anche guardando un po' come si vince il campionato? Consigli? Penso che non sono troppo vecchio per dare tanti consigli così perché penso che anche ci sono giocatori più esperti e più forti che le ho visto, le conosco persone come lei, mi sono trovato in un gruppo fantastico, i giovani sono bravi, quelli più grandi che aiutano sempre in qualsiasi cosa, quindi una cosa bella, un bel gruppo. Sono più contento di quello perché dico sempre che per vincere un campionato la prima cosa è il gruppo, se il gruppo sta bene, unito, è già una cosa grande. Dal mercato di ieri è venuto fuori un Pescara molto lungo, soprattutto in attacco, siete in nove e addirittura quattro attaccanti centrali per una maglia, troppi? No, no, come avevo detto prima, penso che mentre più siamo è meglio perché il campionato è lungo, quindi anche come fa il mister che ti fa sentire importante anche se non giochi o se giochi, ti dico, è importante avere tanti giocatori perché il campionato è lungo. Sono tante partite quindi anche sapendo che c'è gente dietro è molto meglio. Franco Ferrari arriva dall'Argentina, tu sai che qui poco fa c'è stato un giocatore argentino che ha scritto una bella pagina della storia di Pescara a Uo Campagnano. No, non lo so, lo conosco, lo conosco, l'ho sempre guardato, non lo conosco come persona però ho tanti amici che ho, mi hanno parlato molto bene di lui, è stato tanti anni qua, è da admirare perché l'ho visto anche, mi ricordo possibile, che ha fatto gli ultimi 90 minuti, l'ultima partita, tutto. Perugia? Sì, sì, mi ricordo, l'ho vista tutta perché ho detto fare 90 minuti così come saluto, l'ultima partita, tanta roba. Adesso c'è Franco Ferrari qui a Pescara, tu te la senti di dire che l'obiettivo è vincerlo questo campionato? Senza se, senza ma. Vincerlo, questo è l'obiettivo perché sappiamo come ho detto prima la piazza che i giocatori che ci sono, secondo me, sono tutti giocatori forti quindi noi pensiamo a quello, cioè quello è il nostro obiettivo. Poi se succede qualcos'altro vedremo, ma se parti con la testa pensando che devi vincerlo già cambi tante cose. Chiudiamo ricordando un po' questo quarto d'ora finale della partita con l'Ancona Materica. Prima una gran conclusione di destro, salvata in calcio d'angolo, poi qualcuno da dietro ti ha spinto un po' il colpo di testa finito sulla traversa e sulla linea? Purtroppo, se ti dico, ce l'avevo in testa, era facilissimo da fare ma mi hanno appena spinto da dietro. Era rigore? Sì, ma la linea te la posso non fischiare mai, 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 mai nella vita. E ti dico, l'ho dato pure forza alla palla ma toccandomi sono andato lì indietro e vabbè, entrerà dopo, no? Arriva Carrara e quindi c'è la possibilità di farlo subito questo gol. Speriamo, speriamo, sarebbe una vera soddisfazione. Più che altro per il lavoro che stiamo facendo, che stiamo lavorando tanto, bene, il gruppo è unito, in forma, quindi speriamo anche di vincere che sarebbe la cosa per continuare con questo piede giusto. Franco Ferrari, da numero 9 titolare. Speriamo, non lo so.